Avere un riconoscimento sull'empatia per un medico è un valore aggiunto rispetto alle capacità professionali o è un valore imprescindibile? Direi che è un valore imprescindibile. L'empatia rappresenta un po' l'atteggiamento ideale che il medico dovrebbe avere nei confronti di ogni paziente. Nel mio caso si trattava di pazienti con tumore al seno. L'ascolto, l'accoglienza e la condivisione del percorso di cura sono tante cose che non si possono acquisire nel percorso di studi. Un po' fanno parte anche della predisposizione personale di ciascuno di noi e derivano anche dall'esperienza personale, di lavoro e così via. Con un paziente oncologico è più semplice costruire un rapporto più umano visto che è una situazione particolarmente grave o è più complicato? Beh direi che sicuramente per noi medici è più favorevole instaurare proprio un rapporto umano, se vogliamo di fiducia, di amicizia con il paziente proprio perché seguiamo per tanto tempo i pazienti nel loro percorso della malattia. Per questo motivo diventiamo poi il punto di riferimento del paziente non soltanto per i bisogni clinici ma anche per i bisogni personali, familiari, sociali e proprio grazie a questa possibilità della cronicità del trattamento e del percorso abbiamo questa opportunità di costruire col paziente un rapporto speciale rispetto ad altre figure specialistiche. grazie 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 a tutti.